Buongiorno tifosi bianconeri, volete restare aggiornati su tutte le novità della Juventus? Quindi iscriviti al canale e attiva la campanella di notifica, quindi non ti perdi niente della Juve. Davide Frattesi, una possibilità per la Juventus La carriera di Frattesi potrebbe avere una grande svolta a gennaio. Frattesi, detentore assoluto del club del Sassuolo, il giocatore rivelato a Roma, acquistò grande risalto al Sassuolo. Beh, secondo le informazioni, a gennaio potrebbe verificarsi una battaglia, tra Roma e Juventus. La Roma vuole rafforzare il centrocampo, e il giocatore è il bersaglio del club comandato da Mourinho. Amici miei, una sosta veloce, per chiedere il vostro like perché è molto importante per il canale. Se puoi lasciare il tuo like te ne sarei davvero grato. E continuando. Già la Juve Frattesi è già nella lista del direttore sportivo Federico Cherubini per gennaio. Frattesi, alla Juventus, rappresenterebbe una rivoluzione nel centrocampo bianconero. La Juventus si aspetta un'offerta dalla Roma per poter contrattaccare. Amici miei, lasciate il vostro commento, su Davide Frattesi, cosa ne pensate del centrocampista.